Dopo il picco registrato nella prima settimana di febbraio, l'epidemia di influenza comincia a diminuire. A Imola l'incidenza è stata di 15 persone su mille in linea con l'andamento regionale. Questo vuol dire che in una sola settimana, ad esempio per la nostra azienda, che è un'azienda a 135.000 abitanti, si sono ammalati in 7 giorni 2.000 persone. Siamo ormai in discesa, quindi l'epidemia fortunatamente se ne sta calando di incidenza e nel giro di qualche settimana ci saremmo dimenticate l'influenza. I più colpiti sono stati come sempre i bambini piccoli da 0 a 4 anni, mentre tra i over 65 si è registrata una buona copertura vaccinale che ha limitato la diffusione dell'influenza. Gli anziani hanno goduto della protezione vaccinale perché fortunatamente gli anziani fanno la vaccinazione. È stata un'influenza abbastanza pesante dovuta sostanzialmente a un virus A, il virus emerso nella pandemia che ci fu nel 2009 che sta ancora circolando. Il virus che ha colpito quest'anno era contenuto nel vaccino, quindi il vaccino che abbiamo usato quest'anno per vaccinare le persone a rischio ha funzionato. I medici ci hanno chiesto più vaccino di quello che gli abbiamo dato l'anno scorso e riteniamo quindi alla fine dell'anno di registrare una copertura migliore della copertura già buona dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo vaccinato il 56% degli anziani, quindi persone con l'età superiore a 65 anni. Speriamo che di anno in anno riusciamo a raggiungere sempre di più risultati migliori.